Oggi si festeggia la presentazione del Signore, festa che ci ricorda la presentazione di Gesù al Tempio dopo 40 giorni dalla sua nascita. Qui Maria e Giuseppe incontreranno Simeone e Anna che stanno lì ad attendere da tutta la vita il grande Messia che è appunto Gesù e lo riconoscono. Allora dovremo vedere un attimo alla nostra vita personale quanto siamo capaci di riconoscere Cristo nella nostra vita, quanto veramente cogliamo i segni che Dio ci dà ogni giorno. Oggi questa festa viene chiamata anche più comunemente la Candelora perché durante la celebrazione accenderemo delle candele per ricordare che Cristo è la luce delle genti, Cristo è la nostra luce. Allora dobbiamo vedere quanto veramente facciamo illuminare la nostra vita, il nostro cuore da Cristo e a nostra volta noi dobbiamo diventare luce per gli altri, testimoni di quella luce che è Cristo. Cristo può cambiare la nostra vita ma solo e soltanto se noi gli diamo la possibilità di farlo. Allora non lamentiamoci se sentiamo Dio lontano da noi ma siamo noi che ci siamo allontanati da Lui. Allora chiediamo al nostro cuore di aprire la porta per far entrare veramente Cristo, per poter illuminarlo e poter essere poi dei bravi cristiani ma soprattutto delle brave persone che amano senza nessun tornaconto ma con un amore incondizionato e unico. Ciao! Ciao!